. Windsurf Slalom, tricolore under 20 Il Reggino Scagliola, Yotti nell'under 17 . 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 per l'U20 Gaia Benzita 91 del Circolo Nautico Cattolica, Lisa Tognetti del Circolo Windsurf Livorno, per l'U17 e Sofia Nivero Vita 1911 dell'Associazione Velica Marina Iulia. Crotone con la terza ed ultima prova di Crotone si è concluso il campionato nazionale giovanile Slalom Windsurf 2017, del circuito dell'Associazione Italiana Classi Windsurf. FIV, di Crotone, i nuovi campioni nazionali 2017 sono, nella categoria Under 20 il reggino Francesco Scagliola, numero velico Ita 353 del Circolo Windsurf dello Stretto di Reggio Calabria, Alessandro Iotti Ita 308 del Circolo Surf Torbulle e il nuovo campione Under 17, Nicolò Prestipino Ita 210 del Circolo Navale Palermo in quella Under 15. Per le donne le nuove campionesse sono, per l'U20 Gaia Benzita 91 del Circolo Nautico Cattolica, Lisa Tognetti del Circolo Windsurf Livorno, per l'U17 e Sofia Nivero Vita 1911 dell'Associazione Velica Marina Iulia. Scagliola, vera promessa del Windsurf italiano, che deteneva il titolo Under 17 che quest'anno ha già esordito tra i pro del PVA, si è imposto in classifica generale davanti a Davide Meloni Ita 413 del Windsurfing Club Cagliari e il detentore del titolo 2016 Daniel Slick del Circolo Surf Torbulle. Il nuovo campione U17 Alessandro Iotti ha invece preceduto in classifica generale Giuseppe Congi Ita 580 della Lega Navale Crotone, e la prima delle donne Lisa Tognetti, terzo uomini Giulio Emilia nell'Ita 206 del Circolo Windsurf Livorno. Il podio dell'U15 invece dietro Prestipino si è piazzato Benni Bordonaro Ita 610 del Circolo Navale Palermo e la prima delle donne della categoria Sofia Neviero. Per le donne il podio Under 20 vede dietro Gaia Benzi la neocampionessa nazionale RSX Out Georgia Speciale Ita 941 della Lega Navale Ancona e Matilde Lucchi Ita 162 del Windsurfing Club Cagliari. Il podio Under 17 dietro Lisa Tognetti si è piazzata Marta Bonetti Ita 511 e Anna Biagiolini Ita 1881, entrambe del Circolo Marina Iulia. Il podio Under 15, dietro Lanivero Caterina Biagiolini Ita 5511. Per quanto riguarda le categorie Under 17, nati dal 2001 al 2002, e Under 15, nati dal 2003 al 2005, la regata era riservata alle tavole a vela della RR di Führerace WTEC 120 Club On Design. Per la categoria Under 20, nati dal 1997 al 2005, l'ammissione a tutte le regate era invece libera. Ricordiamo infine gli atleti che detenevano il titolo nazionale 2016, Daniel Slick Ita 364 del Circolo Surf Torbole per l'Under 20, Francesco Scagliola Ita 353 del Circolo Windsurf dello Stretto di Reggio Calabria, e per la categoria Under 15 Edoardo Tanas Ita 414 del Circolo Fraglia Vela Malcesine, WR. Ricordiamo il titolo nazionale 2016, Daniel Slick Ita 364 del Circolo Surf Torbole per l'Under 20,